Il percorso nascita al Policlinico di Milano diventa sempre più accessibile ed inclusivo. Le donne sorde che partoriscono a Milano possono avere a disposizione un interprete della lingua dei segni che le accompagnerà durante tutte le fasi della gravidanza, dalle prime visite ed esami ai controlli periodici, al momento del parto, così come nei mesi successivi al parto, dove è fondamentale imparare ad acudire il proprio bambino al meglio. L'interprete sarà un prezioso aiuto per interagire con il medico e con l'ostetrica, così da poter conoscere a fondo il proprio percorso parto e per poter vivere ogni momento con la cura che merita. Inoltre, è a disposizione una serie di video sulla gravidanza, sia nella lingua dei segni, sia sottotitolata in più lingue. È una grande opportunità che l'ospedale ha sviluppato con l'Ente Nazionale dei Sordi, un contributo necessario all'umanizzazione delle cure, che porta le tante donne sorde ad essere finalmente partecipi in ogni aspetto del loro percorso per diventare mamma. L'interprete della lingua dei segni sarà presente anche nelle visite in consultorio e durante tutto il percorso pre-parto, in modo che la donna e la coppia interagiscano in tempo reale, facendo tutte le domande di cui hanno bisogno e arrivare preparate ad uno dei momenti più belli ed importanti della loro vita. Grazie a tutti.